Nome? Alice. Silvia. Cognome? Oliver. Yachmurian. Data di nascita? 24 agosto 2002. 2 aprile 1900 eccetera eccetera. Luogo di nascita? Varna, Bulgaria, sul mar nero. Roma. Colore preferito? Viola e nero. Rosso. Tre pregi e tre difetti dell'altro? Tre pregi leale, sincera e fedele. Difetti? Solo tre, posso dire di più? È rosigona, nervosa e poco diplomatica. È simpatica, solare, è sempre disponibile. Invece di difetti? È insistente, oppressiva, parla tanto. Quale animale ti rappresenta? Il lama. Il gatto. Quale tuo idolo vorresti assolutamente incontrare? Johnny Depp. Lolo e Michele Bravi, la seconda volta. Quale paese vorresti visitare? Amsterdam. Le cascate di Niagara. Voglio andare a vivere in America. Come descrivereste il vostro rapporto? Più che due sorelle. Un rapporto da migliori amiche, quasi sorelle. Fate una smorfia. Cosa vorresti fare da grande? Da grande vorrei fare youtuber famoso. La youtuber Obv. Youtuber preferito? Sabri Gamer. Oltre a Sevi Show ovviamente, scontato. No dai. Va bene, ok, ok, ok. No dai. Alessi Militano, ragazzi. Alessi Militano. Vorresti fare un film? Perché no? Sì. Sì. Windows o Mac? Mac, Donald, sempre. Windows. Youtuber che non sopporti? Ma te che semina? Mattia Ruta. Di una barzelletta. Un uomo entra in un caffè. Un cammello che attraversa un bicchierino. Uno lo descriveresti? Desert. Canta il pezzo della prima canzone che ti viene in mente. Oh, happy day. Grande. Saluta l'altro. Ah sì, vi. Sveglia. Ciao. Insultatevi. Ma sei proprio una cretina, sei. Stupida. Saluta YouTube. Ciao YouTube. Ciao YouTube, ci vediamo alla prossima. Chissà. Salta insieme a me. Ciao. No, vabbè. Questo mi togliamo. Aspetta di sera. Ma non dico prima domanda, dico solo nome, cognome. Dei Alice, devi aspettare, devi aspettare. Cinque secondi e poi fattano. Ok. Devi aspettare. Ma perché che arriva? Te faccio perché, strans? No, dai. Oh padre. Ali sto ammurendo. Tanto lo sanno tutti che lo vuoi. Ma che? A Fabi J. No, ma che Fabi J. A Santin. Ma non è un quello youtuber pure? Strans, strans, strans te faccio perché? No, dai. Strans. Oggi ti ventrò di tutto sparire. Basta, un pezzo. Un po' la te ne andrà. No, ma saremo. Eh no, non è basta, che sei già stonata. Ciao madre. Ah. Io ripeti la domanda. No, la chi lo c'è?